Nel mio lavoro mi hanno insegnato ad apprezzare le cose per quello che sono, per come sono realizzate. Mi hanno insegnato a prestare attenzione al dettaglio, a essere preciso così come farebbe un artigiano. Con le mie mani ho imparato a modellare la materia, a comprenderla, a sfruttarla per ottenere qualcosa di innovativo che possa stupire. Migliorando giorno dopo giorno ho capito che il progresso ci ha sempre accompagnato perché il tempo che con il suo eterno andare fa puntare lo sguardo alle soluzioni di domani. Velocità, efficienza ed eccellenza grazie alla tecnologia ora sono sempre più vicine. Alla fine ogni cosa al suo tempo e nulla di ciò che è stato fatto in passato potrà mai essere cancellato. Tutto questo è Meccatronica.